batman vs penguin batman contro penguin il suo acerrimo nemico batman eroe dei fumetti ormai anche dei videogame del cinema mainstream diventa una figura di questo soggetto di pao che combatte contro chi contro penguin ma penguin è anche l'icona il pinguino per il quale pao è stato reso celebre e quindi un'ironia che pao mette spesso nelle sue opere come la capacità appunto della resa scenica e teatrale di questo trompe l'oeil che vedete in alto negli strappi quasi un dot alla roy lichtenstein che però strappato come un manifesto in strada fa vedere sotto un'altra superficie chiaramente mettendo in bella vista le sue grandi abilità anche sceniche e vedete anche i colori molto netti gialli rossi colori molto netti citazione proprio della pop art batman vs penguin sicuramente un'opera da non perdere di pao in questa serigrafia 100 per 70 andata Grazie a tutti.